Buongiorno, benvenuti a questa sedia stampa di oggi, primo aprile, non è uno scherzo, è la verità, la zuppa di oggi di che cosa parla del nuovo decreto che sostanzialmente, mettiamoci l'anima in pace perché i giornali forse solo la verità titola nel modo più giusto, ma i giornali dicono tutti quanti che questo decreto fa la cosa che fa, tutti chiusi per aprile, chiaro il concetto, cioè chiamo tutti chiusi per aprile, devo dire la verità che i giornali non ne parlano molto, ma anche nelle prime pagine, ma la stessa identica procedura viene adottata dalla Francia che è sempre stata più generosa di noi nelle chiusure e nelle aperture, per esempio sulle scuole e in questo caso loro fanno coprifuoco alle 19 chiusure precedenti, pensate che io sia diventata chiusurista? Affatto, io penso che Francia, Italia, Germania e l'Europa siano la fine dell'Occidente, cioè siamo a livello per cui il rischio zero non è più nella vita, non è più nella conduzione della propria vita, ma è nel contagio, cioè bisogna avere rischio zero nel contagio, che vuol dire non rischiamo a zero per la nostra vita, ma rischiamo a zero di prenderci il contagio che come voi ben sapete sotto gli under 40 vuol dire assolutamente nessun problema, sotto gli under 50 è un problema molto contenuto, ma è un grande problema sugli over 70-80. Oggi mi sembra che Francesca Viola, la virologa, inizia sulla stampa il suo ragionamento raccontando come l'Europa sia una grande pippa nell'aver vaccinato proprio gli over 80. Ma ieri c'è stato il decreto. Il decreto dice Italia è chiusa tutt'aprile, dicono praticamente tutti quanti i giornali, aperture se il territorio avrà dati da zona gialla e sarà in regola con i vaccini. Allora io mi chiedo, ma se il territorio e se queste zone colorate, gialle, rosse e bianche, fino a poco tempo fa, il nostro ministro, il grandissimo ministro Speranza dice che hanno funzionato, voi mi dovete spiegare una cosa, se hanno dei dati da zona gialla non li apriamo? No, spiegatemi una cosa, noi fino a poco tempo fa dicevamo che funzionavano le zone, i colori, e adesso ci dicono che a maggio, ad aprile scusatevi, non funzionano più i colori, gli stessi che pensavamo funzionassero bene, e se una zona diventa gialla, secondo i dati che fino a ieri ci hanno detto che erano fechissimi, il governo può valutare la riapertura, sentite bene, può valutare la riapertura a patto che si sia proceduto con il tasso di vaccinazione corretta. Ragazzi, ma che ci è stata accoglionata? Come dicono a Roma, ma veramente ci è stata accoglionata? E qualcuno veramente crede che questa sia un'operazione aperturista? Questa è molto più chiusurista di prima e tra l'altro smettendo i criteri gialli, rossi, quelle robe lì, quei semafori che fino a prova contraria avevano raccontato gli stessi membri di questo governo che funzionavano fino a poco tempo fa. C'è perfettamente ragione il titolo, come si chiama, della verità di Belpietro che dice contentino alla Lega, perché addirittura non volevano me, se non fosse stata per la Lega il centrodestra, forse Italia pare che abbia fatto per una volta nella vita sua un po' si sia ricordata di essere centrodestra, ma ovviamente con la forza del coniglio, tant'è che esce soltanto Salvini in queste dichiarazioni e quelli di Forza Italia pensano a dire le solite loro banalità politicamente corrette, ma pare che invece ci abbiano lavorato davvero su queste possibilità di riaperture. Insomma, il punto vero è che questo contentino non varrà nulla, però vale da un punto di vista del principio sul quale ci si è gettato, secondo voi, la Germini o Salvini? Salvini, grazie al cavolo, perché la Germini fino a ieri ci diceva che se avessimo tenuto aperto ci sarebbe stato il doppio dei morti, ci ha detto che la soluzione era quella dei ristori, non capendo che i ristori coprono l'1,5% e anche se li raddoppi sono il 3% e anche se li triplichi sono il 6%, cioè ragazzi ci siamo resi conto che questo è il criterio per il quale ci vogliono chiudere, tanto a loro lo stipendio del 30% non li riduce nessuno, non del 100% come altri migliaia di persone disperate, non che rimangono a casa come migliaia di persone disperate, no, a loro non li riduce nessuno. Quindi la valutazione delle eventuali riaperture verrà fatta ad aprire, però è il momento di dire che una legge che non viene accettata più ormai da nessuno, basta girare per le città, basta girare per le città in questo momento e vi rendete conto che nessuno più accetta, una piccola minoranza probabilmente sì, saranno i parenti di speranza, nessuno più accetta quest'idea che si debba rimanere a casa chiusi, fissi, perché questo è la fine per noi della nostra civiltà. Burka, cioè la nostra maschera in faccia, chiusura in casa, impossibilità di socializzazione, non si può lavorare ma si può andare nei mezzi pubblici considerati non migliorati di cui nessun giornale parla. Ci hanno detto prendete le mascherine e non sono riusciti a comprarle, mi sembra che oggi il tempo lo riporta. Ci dice potete andare soltanto a lavorare e i mezzi pubblici sono una merda, cioè sostanzialmente sono esattamente come erano primi. Insomma, Draghi sposa il rigore e dice no a Salvini, è il pezzo più azzeccato e lo prende. Il signore, così come il Coterno Nazionale, dice linea dura, Italia chiusa, tutto, aprile. Capezzone, non ci sono i parametri né automatismi, cioè ha ragione perfettamente Capezzone, ma avevate spiegato che c'erano le zone gialle, i parametri, i dati scientifici eccetera, né parametri né automatismi, si apre soltanto per criteri politici, quando è del tutto evidente che la curva dei contagi sta scendendo, lo dicono tutti tranne i giornali italiani, ma voi se leggete bene a pagina 20, a pagina 25, gli esperti ve lo dicono ma ve lo nascondono, e i morti sono esattamente figli dei contagi di 10-15 giorni fa. Ma comunque è una battaglia persa, oggi c'è un bellissimo pezzo di Cassese ed è incredibile come Cassese abbia sostituito per noi, che non nasce liberale, ma abbia sostituito per noi liberali un po' quel grido di dolore contro la burocrazia, perché oggi c'è un pezzo favoloso sul Corriere della Sera e parte dall'idea delle opere bloccate da un labiritto di norme e l'antitrust dice scusatemi siccome c'è tanto casino per queste opere che dovremo pur fare quando ci libereranno, insomma anzi no, quelli delle opere le possono fare perché loro possono ammazzarsi, il resto del mondo no, insomma perché il criterio è questo, non dovete uscire perché state morendo, perciò quelli che escono rischiano la morte, se rischiano la morte vuol dire che le cassiere del supermercato, che i farmacisti e che quelli che stanno sulle opere pubbliche rischiano la morte, perché se no mi devi spiegare perché dobbiamo chiudere tutti, se non per un rischio di morte, spero che almeno questo sia il rischio per il quale si compromettano le nostre libertà, ma comunque Cassese dice che l'antitrust ha detto aboliamo il codice degli appalti, ma non per fare un far west come piace ai sinistri, ma per usare le direttive europee che sono più snelle addirittura del nostro minchiato del codice degli appalti che by the way non è che ha fatto speranza, l'ha fatta Renzi, ognuno diciamo le sue stupidaggini le fa, Renzi, quel codice degli appalti che ha fatto il governo Renzi, tante cose buone, ma questa ricordiamocela perché c'è un nome e cognome, se no sembra che questa roba qui venga dalla luna. Il governo Renzi fa questo codice degli appalti che oggi gli stessi renziani odiano, chiede Cassese, aboliamolo come dice giustamente l'antitrusta, ma sono contrari i sindacati, i sindacati sono contrari. I sindacati che vanno a cena a casa di Brunetta, i landini, quegli stessi che vanno a casa dei cosiddetti liberali, sono contrari alla liberalizzazione degli appalti, perché in realtà vogliono una stabilizzazione dei precari. E la stessa cosa è anche l'autorità anticorruzione. E continua avanti Cassese, raccontando il fatto di tutti quanti i troppi titolari di potere e di interdizione di questo Paese. I magistrati che vogliono saltare la fila, i sindacati che parlano degli appalti, l'ANAC, l'Associazione Nazionale della Corruzione che si mette sempre di mezzo, la Corte dei Conti che fucila chi si mette a firmare una delibera ed è un dipendente pubblico. E questo panorama, dice Cassese, è fatto dei troppi titolari di potere e di interdizione che sono il vero cancro di questo Paese. Totalmente d'accordo e condivisibile il pezzo, secondo me, di Cassese che vi consiglio di leggere. Spie! Tensione con Mosca per gli appassionati delle storie di spie. Beh, se sono una Repubblica avete il più grande maestro di spie, ma non c'è soltanto il racconto. C'è un capitano di fregata, insomma qualcuno pensa che sia legato quindi al primo di aprile, può pensarlo, il capitano di fregata della Marina, in sostanza viene beccato con il sorcio in bocca, cioè che stava cercando in un partente di spinaceto di spacciare del materiale della Nato ai russi. Io mi chiedo poi che cavolo di materiale segreto esista oggi nel mondo, non so, la piccola esercitazione di quattro alpini e quattro parà da qualche parte, non so, in Normandia. Non lo so cosa ci sia, però è affascinante. Sostanzialmente Di Maio fa la voce grossa, Di Maio, Di Maio fa la voce grossa, la Russia è sempre la Russia perché in realtà questo signore vendeva questi segreti militari incredibili alla Russia. Una storia stupenda, c'ha ragione Venturini, però che dice cavolo, ancora esistono queste cose, ancora esistono le spie e ancora esiste il controspionaggio che evidentemente in Italia ha funzionato. Beh, molto divertente la talpa dei russi per chi si appassiona a queste cose, anche se non riesco a capire poi mi chiedo di contendere dietro a tutte queste robe qua. Vediamo che altro ci sono. Beh, ci sono un po' di cose che vi voglio segnalare. Travaglio oggi è favoloso, non riesce a difendere Conte oggi, lo fa praticamente tutti quanti i giorni, ma c'è un appassionante articolo sull'otti e sulle correnti del PD. Secondo me ha veramente perso la brocca. Oggi nel frattempo il Movimento 5 Stelle vede il debutto di Conte, vedremo che cosa dice. Si interrogano tutti i giornali, a pagina 12, sul fatto che cosa possa dire nell'alleanza tra Grillini, che Conte dovrebbe guidare, e il Partito Democratico, secondo lo schema Bettini raccontato ieri dal fatto. E poi l'altra cosa che deve raccontare Conte, e se lo attendono ovviamente tutti quanti, è se è d'accordo con l'opzione di Grillo, no al doppio mandato, che vuol dire radere al suolo tutta la classe dirigente che lui aveva al governo. Oggi ci sono due o tre cose interessanti al margine. Un paio di pezzi interessanti su Amazon e sullo sciopero di Amazon, fatto uno da Carnevale Maffè sul Foglio, perché Amazon è attaccata di distruggere i piccoli negozi, di avere una fiscalità agevolata, di avere un uso dei dati un po' spregiudicato e di avere una struttura del lavoro da sfruttamento. Le prime tre non sono così vere come critiche, la quarta un po' di più giustifica e racconta dello sciopero dei lavoratori di Amazon, che è una cosa molto importante, molto più importante rispetto allo sciopero italiano, dove ci sono i sindacati, dove ci sono le aziende, dove ha assunto un botto di gente. Calcolate che Amazon ha 800.000 dipendenti in tutto il mondo, è quello che sta avvenendo in Minnesota, dove Amazon c'è un referendum per istituire il sindacato dei lavoratori Amazon in America. Cioè a questo ci sono 800.000 dipendenti e non hanno in America un sindacato dei lavoratori di Amazon. Bisognerebbe far leggere questo pezzo a Marcello Zacché, giornalista economico del giornale, che oggi fa un articolo da manifesto, forse è un manifesto un po' più divertente, perché Zacché ci spiega che ieri è stato e tra l'altro Sallusti glielo mette in prima pagina, il fogliettone di prima pagina, perché ieri si è quotata Delivero e tutti odiano Delivero perché sfrutta i rider. Questa è la grande narrativa che ormai Cigelle e il PM greco di Milano e Guido Brera, con il suo libro, non so come si chiami. Insomma, il mondo chic di Milano usa i rider, usa Delivero, però dopo, quando può, sui giornali dice che Delivero, ben gli sta, che ieri è stata quotata a Londra e ha perso il 23%. Però la cosa che mi permetto di contestare all'amico Zacché è che poi dice finita quel capitalismo tanto amato di Milton Friedman che diceva l'unica responsabilità sociale dell'impresa è il profitto. A parte che ovviamente Zacché quel aspetto del giornale, quel tipo di economia e di capitalismo l'ha sempre detestato, essendo lui ovviamente un non-friedmaniano, come si capisce, è il senso molto chiaro che forse non è chiaro ai socialisti, anche quelli della stampa, che dicono fondi e investitori si sono allontanati da Delivero. Può anche essere, anzi sicuramente così si è perso il 23%. E che funziona così la procedura. Se voi fate fallire Delivero, a parte di non avere il vostro sushi della minchia a casa come fate sempre senza dare la mancia al rider, perché questo è tipico di questi qua, beh, oltre a non avere più Delivero, cioè se non fa profitti Delivero, se Delivero non esistesse, ci sarebbero 40.000 persone in Italia che non lavorerebbero. Perché l'idea non è, cari amici miei, che state in questi giornali in cui pensate di fare i fenomeni per cui il rider viene pagato, alla fine può prendere anche 2-3 mila euro al mese, mentre i collaboratori dei giornali se va bene ne prendono 400-500. Bene, in questo mondo in cui voi considerate schiavista, Delivero, vi fa schifo Delivero, c'è un referendum per Amazon perché in America non è il sindacato. E allora io mi chiedo, perché Amazon è fico e Delivero no? Perché nella stessa pagina può convivere il populismo di quelli che scioprano contro Amazon? Nella stessa pagina della grande intelligenza di sinistra italiana e dall'altra parte invece lo sfruttamento di quelli di Delivero. E avete mai pensato e avete mai ragionato su come funziona il lavoro diciamo della grande filiera produttiva di quelli che lavorano con Amazon e i consegnatori dei pacchi a 2 euro? Non ce n'è un italiano, non ce n'è uno contrattualizzato, non c'è un lavoratore dipendente. No, ci siamo fissati su quello che noi riceviamo a casa. Il fattorino che noi usiamo per prendere il sushi e la pizza e l'hamburger perché non vogliamo alzare il culo? Bene, quanto godiamo che Delivero ha perso il 23% e ci tiriamo in mezzo anche Friedman. Ma di questo è pieno il mondo e vi voglio aglietare la giornata con due bei pezzi che vi invito a leggere, il primo Fontana indagato. Fontana indagato e finalmente tutti quanti godono il tesoretto di Fontana, dice la stampa. Ragazzi è una cosa allucinante quando Fontana verrà assolto fra due o tre anni per una roba ridicola perché tutta la storia di Fontana non è già più i camici sulle quali è chiaro che non c'è praticamente nulla, posto che non li hanno venduti, posto che era la moglie che era il 10%, posto tutto quello che voi sapete sui camici, posto che l'azienda che li stava assumendo, e quella era una grande responsabilità di Fontana, era un'azienda che faceva acqua da tutte le parti perché vaccinare. Ma il punto non è giudiziario, semmai è politico, ma il punto di vista giudiziario gli stanno rompendo i coglioni per la volontaria di disclosure, lo scudo fiscale, perché così funziona l'Italia. Prima fanno la legge e dicono riportati i soldi dall'estero in Italia, cosa che uno fa? O tegli anche all'estero dichiarandoli. Cosa che uno fa? Se poi lo fa, cosa che fa la famiglia Fontana che a differenza di tante altre, mi spiace per gli altri, ma aveva quattro risparmi molto consistenti, beh insomma una volta che porta i risparmi dall'estero e regolarizza il risparmio dall'estero, avvenuto nel 2015, ma ti ammazzo, perché tu prima o poi, cioè è la velina, è la velina, no? Prima o poi portai i soldi degli esteri, come le fatti, come non le fatti, perché le fanno dall'estero, perché arrivano dalle bama, se poi i giornalici si mettono tutto. Rosiconi, c'era una legge, si poteva fare la volontaria di disclosure, l'hanno fatta centinaia di migliaia di persone. Questa roba, quando capita a un politico che gli vuoi lo vuoi sputtanare, beh la tiri fuori. Tanto lo indago, poi fra tre anni se lo assolvo chi se ne frega. E questo è il criterio favoloso del giornalismo che si basa soltanto sulle accuse. Il tesoretto del Presidente della Regione Lombardia. Ma perché? Ma perché? Ma perché questo pregiudizio, sempre e comunque? Perché in realtà loro spererebbero, questi quattro sfigati, di trovare finalmente una storia che non trovano, perché devono sempre papparli dalle carte della Procura. New York Times, il grande giornale, il più figo del mondo, per fortuna che c'è oggi Rico che mette in fila tutte le minchiate che il più grande, che si è autoproclamato, cioè il foglio di Manhattan, pensa di essere imbattibile. Dalla pandemia al caso montante a Crocetta, come ha la bontà sua di ricordare, Rico ne ha messe in fila una cazzata dietro l'altra. Giovanni Sallusti, e questo leggetevelo, guida, parla sul riscaldamento del paese, del mondo, e ricorda quello del 1409. Da leggere, stupendo, anche Giovanni Sallusti. Insomma, per non mettervi di cattivo umore, per non leggere soltanto sto fatto del decreto, per non leggere le minchiate contro Friedman, per non leggere come possiamo le invidiate contro il godimento nel far cadere il governatore Fontana per motivi giudiziari, beh, leggetevi, Rico e Sallusti, perché qualcuno in Italia che scrive ancora come si deve, cioè, ciao!